3 marzo 1847. Nasce a Edimburgo Alexander Graham Bell. Il suo nome è universalmente legato al brevetto 174465 che deposita il 17 marzo 1876 per proteggere il metodo e l'apparato per trasmettere la voce o altri suoni per mezzo di ondulazioni elettriche. Il telefono. In realtà l'italiano Antonio Meucci ha inventato il telefono ben cinque anni prima nel 1871 ma non ha abbastanza soldi per il brevetto. Il nome di Bell è legato anche al decibel l'unità di misura comunemente usata per l'intensità di un suono. Muore il 2 agosto 1922.